Ho fatto ufficialmente partire il timer perché in meno di 5 minuti devo riuscire a prendere la mia arma mitica Ragazzi il timer è appena partito e ho 5 minuti da adesso per andare a prendere le armi e uccidere il boss Cioè devo sbrigarmi perché io devo assolutamente vincere questa fantastica challenge Ragazzi io devo prendere le armi del tartarughe ninja ma prima di prendere le armi del tartarughe ninja devo prendere delle armi effettivamente no? Ok ragazzi io ho scelto l'arma mitica di rotaie rischiose perché è veramente troppo P Allora c'ho 5 minuti da adesso per recuperarla per fare più punti possibili Ragazzi appena è partito il timer di 5 minuti in questo preciso momento io adesso sto andando qui a gran ghiacciaio per la prima arma mitica Le regole sono semplicissime un punto se riesce a prendere l'arma mitica in meno di 5 minuti Un punto per ogni kill e due punti per ogni kill con l'arma mitica chi sarà il più forte? Anche perché in palio ci sono 5 no quanti no non lo so quanti soldi ci stanno in palio tipo 100 euro è quello che ho capito Una cosa importante andiamo in questa casa gialla bellissima prendiamo un'arma e poi andiamo a fare il culetto al boss Perfetto ragazzi ho trovato anche già un lama mamma mia meglio di così non si può E quello che devo fare ragazzi fondamentalmente è riuscire a prendere l'arma entro 5 minuti perché se non riesco a prendere entro 5 minuti perdo già la sfida praticamente Alexa avvia il timer di 5 minuti 5 minuti a partire da ora Ok benissimo e adesso direi di trovare subito al volo qualche arma Però ragazzi adesso qui c'è un problema affrontare il boss perché se i ragazzi non gioco a fortnite da una vita e probabilmente mi squaglierà sia il boss che tutti i nemici vicini Ma noi vabbè ci proviamo perché per 100 euro si fa qualsiasi cosa Io direi di giocarcela con molta calma perché ragazzi la strategia fondamentale per questo video non è secondo me prendere il boss subito Lo possiamo prendere anche alla scadenza dei 5 minuti ma che ce ne frega a noi L'importante secondo me non è quel punto del boss l'importante sono i punti delle kill ragazzi E ovviamente ci sono anche 5 punti bonus per la vittoria reale Ragazzi mi devo sbrigare il timer è già partito da un bel pezzo Ok ho preso lo scar raga l'unica cosa che dobbiamo fare in questo momento è andare a prendere il boss Cioè se non prendo il boss perdo i punti E dato che comunque è una challenge e ci stanno 100 euro in paglio devo vincere Mi sembra ovvio Prende il mingoloso lama che avevo visto lì all'inizio Così c'ho materiali c'ho un bene o male tutto più o meno Non tutto tutto però qualcosina ce l'ho E poi attendiamo che spawnino le armi del tartarok ninja Che così abbiamo anche il movement ragazzi siamo a posto Via apriti 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 Mi prendo anche volentieri questo Ove ragazzi posso dire l'ama peggiore della mia carriera di fortnite Orribile ragazzi orribile c'è niente Zero totale proprio Ok stanno già sparando al boss Questo potrebbe essere un segno positivo Vuol dire che un nemico potrebbe essere in grande difficoltà proprio in questo momento Quindi direi di avvicinarci Ma è arrivato il vostro momento di lasciare un mi piace adesso ragazzi Cioè se non lasciate un mi piace adesso dovete quittare il video ve lo dico Io ve lo dico dovete lasciare obbligatoriamente un like adesso raga Per forza Allora la mia tattica è quella di salire sul tetto se ci riesco Ok let's go 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 Non lo sto prendendo lo sto prendendo Si sta mettendo male si sta mettendo molto male Stanno fightando con qualcun altro Facciamoli fightare un po' Eccolo 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 Una kill fatta oh mio dio Due di vita Mamma mia ragazzi mamma mia No 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 Allora come procediamo? Mi servono cure immediatamente se non riesco a fare nulla Comunque vorrei vedere come se la cava Contins perché secondo me faremo comunque più punti di lui Ragazzi mancano 4 minuti veloce Andiamo dal boss Velocessimi Dai 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 Ok signori ci siamo eh siamo praticamente qua davanti Spacchiamo questo muro E dovrebbe stare qua Eccolo là Eccolo là la puttana Vai gli sparo gli sparo gli sparo Mancano 3 minuti e 37 Ce la posso praticamente fare Eh questa è bella cattiva questa str- Porco ragà ma non c'ho niente No ragà ma muoio sicuro No 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 muoio Via 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 Muoio sicuro muoio Ma siamo pazzi Non ho niente Non ho niente per difendermi No no ragazzi è finita Cioè non ho colpi Non ho nulla È difficilissimo ammazzare il boss Mi sa che non ce la faccio 3 minuti e 3 rimasti Porco ragazzi è difficilissimo Non so se ce la faccio a prendere il bonus Non credo Ok sentite come sparano Sentite come sparano Prendiamo la pistola aimbot Che ci aiuterà sicuramente Calmi 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 è lì giù Il boss è lì Ma dov'è il nemico regà Posso dire che per adesso Secondo me me la sto giocando Davvero davvero bene Cioè non stiamo andando in difficoltà Credo Ok potrebbe esserci gente ovunque Ma non capisco dove Cioè ci sono nemici lì Ok Ucciso Prima che il primo punto Forse ce ne sono altri però sì Ok È white Regà è white Non capisco dov'è però Oh il timer quanto sta 3 minuti regà Ok medaglione preso E arma medica presa Ok ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Adesso l'importante è scappare Secondo me Non ci interessa manco il bunker Ragazzi guarda là in alto Oh già Eccole qua Eccole qua Già droppate Già droppate ragazzi Oh belle anche le spade Per cazzi Tanta roba Tanta roba Sono passati all'incirca Due minuti ragazzi Da quando è iniziata la partita Quindi dovrei essere Easy proprio Nel chilling però E sono abbastanza certo Che arriverà qualcun altro A prenderle Ah eccola infatti Vedete Ok No problem No problem No problem No problem Era un botto Era un botto Era un botto No problem No problem Anche perché questa arma qua ragazzi È la mia arma Così c'è il nome preferita Regà e direi che in 3 minuti e qualcosa Probabilmente abbiamo la nostra arma medica Let's go Let's go Dobbiamo assolutamente scappare Andare via A cercarsi delle cure Oh mio dio Stavo per morire dal danno da caduta Mamma mia Porca vacca raga No allora Oh là c'è un medikit Benissimo Ci sta pure un nemico eh Io non ho paura di pusharlo Io per forza voglio quell'arma mitica eh Ragazzi C'ho ancora 2 3 minuti 3 minuti No 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 Ok Seconda killa giudicata Let's go Abbiamo devastato tutti Le rotaie rischiose Proviamo in questi In questi 2 minuti Ce la dobbiamo fare eh ragazzi Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Dai che l'abbiamo quasi ucciso Dai che l'abbiamo quasi ucciso Oh mio dio Quest'arma è veramente troppo fia Mamma mia Mamma mia No 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 Scappa squi scappa 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 Mamma mia mamma mia Un minuto Un minuto e 17 secondi raga Se non riesco a prenderla È veramente un problema per noi Ok 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 Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta No 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 Se mi uccide adesso Io sclero Io sclero un botto se mi uccide eh Punto alla vittoria Perché alla vittoria Lollo mi darà ben 5 punti Ragazzi qui c'è la situazione critica Perché ragazzi Io qua sono al momento Con 34 di vita E se mi spara Anche una pompata al boss Anche con gli scagnozzi Io sono fottuto Dove cazzo si esce Allora regà con calma Abbiamo veramente E dico veramente pochissimo tempo Il boss non è stato ancora ucciso L'unica cosa è che abbiamo veramente pochi colpi Cioè non ce la facciamo a ucciderlo Se abbiamo così pochi colpi regà Ok queste sono buonissime Queste sono veramente buonissime Gli stanno a sparare Gli stanno sparando Ok continua a sparare Vai 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 continua Continua Eh non c'ho più colpi regà Regà niente Non ce la faccio Mancano due minuti Il problema è che Sto botto è veramente troppo forte Io non c'ho colpi Mi sembra Mi sembra Sembra un po' impossibile Questa challenge Ah capito sta qua Simpatico Veloce veloce Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta l'ucciso Mamma mia L'ho preso ragazzi Entro 5 minuti Mamma si so forte Ed adesso ragazzi Ogni kill che vado a fare Con l'arma mitica Ho 2 punti Mamma mia Ok ragazzi Adesso dovremmo solamente fare kill In teoria l'arma mitica Mi dovrebbe dare un po' più di punti Ma intanto io mi apro qua Sono anche bello full mazza Ragazzi Cioè davvero Non posso lamentarmi E in più ragazzi Ci abbiamo anche un bonus 5 punti Per la vittoria reale Quindi voglio dire Cioè regà Che inizio di partita Abbiamo ben 2 punti Anche perché ho messo 100 euro in palio E farei una figuraccia assurda Se non dovessi vincere Regà ve lo dico Cavolo io però il bunker lo voglio Regà Mi dispiace Ma lo voglio Ok Quello non è un nemico E quindi non ci interessa Lo killiamo super easy Proverei a prendere il bunker Anche se sono sicuro Che lì sotto Qualcuno a camperare Potrebbe esserci eh Ma sapete che forse Il nemico che era qui È morto da Dal bot Regà Non vorrei sbagliarmi eh Dai proviamo ad andare nel bunker Il male che va Abbiamo fatto 2 punti Ok no Non c'era nessuno Perfetto Abbiamo il bunker Regà Godo 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 un bot Ragazzi questa partita È davvero complicata C'è la safe Ma non è un problemissimo Perché abbiamo comunque Un sacco di slot di cure Abbiamo un sacco di roba Perfetto Ah io quasi quasi La pistolina questa qua Me la terrei regà L'unica cosa che prendo È forse un cecchino Direi di sì Direi che ci prendiamo Un cecchino E stiamo a posto Regà Stiamo nel shields Mi sono appena ricordato Che ho lasciato Uno shieldone Da 50 di vita Là davanti Davanti ai bot Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio C'è un bot Là è un bot Ma cosa fa Ma raga C'è un posto qua Ehm Mi scusi Signore Lei non può Attraversare i muri Non siamo ad Hogwarts Dai ti aiuto io Ti aiuto io Mamma mia ragazzi Ho rischiato tantissimo Ma per fortuna Ce l'abbiamo ragazzi Ho anche il medaglione E l'arma mitica A posto Ci manca solamente Fare le kill Ragazzi qui c'è gente A meno che non sono le guardie Però ne dubito Quindi ragazzi Andiamo subito a pushare Dobbiamo fare una kill Con l'arma mitica Eccolo Eccolo qui ragazzi Killiamolo subito Con l'arma mitica E boom ragazzi Due punti Ok raga Andiamo a prendere anche il bunker Per favore Così abbiamo un sacco di armi Super buone Dai 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 Veloci Veloci Ok signori Siamo messi veramente Veramente super bene Siamo rimasti in 38 Possiamo fare anche la victory royale Forse Non lo so Ma se per sbagli Rescappare la vittoria reale Sono veramente il più forte del mondo Davanti a mentire Ci dovrebbero stare persone Se non sbaglio Non lo so Ci proviamo Ci proviamo Ma sei stato bravissimo Ok ragazzi Fuori da qua Nel chilling Ora Siamo nel chilling Possiamo anche forse pushare In realtà Vediamo un po' I milaglioni Sono analizzate rischiose Vorrei andare verso Rotaglie rischiose Ho un po' di paura Ad andare verso rotaglie Ho un po' di paura Ma Sapete che però Comunque potrei anche Bene o male Fregarmene Di aver paura Nel senso Nella vita si ha paura Di tante cose Signori volo Ok Ok Due punti bonus Let's go baby Ok un altro fatto Regal Quattro punti bonus Ok Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ecco qua Un momento Un momento Un momento Un momento Avanti a mentire Ci dovrebbero stare Persone Se non sbaglio Usino là L'uccido Devo ucciderlo Proprio con l'arma mitica Mamma mia Fermi Con calma Sta qua Mamma lo prendo Non l'ho preso col pompa Ci sta Dov'è che sta il bro Dov'è sta il bro Dov'è Dov'è andato il bro Sta qua sotto Dov'è Dov'è andato il bro È scappato Eccolo Oddio Apri Oh mio dio No way Ok Ah ok Più forte Oh let's go Let's go Ok 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 Era Refe Era Refe Era Refe Refe Mi hai ucciso tu Refe mi hai ucciso tu Oh mio dio Oh mio dio Adavere eri tu Ma siamo capitati Siamo capitati nella stessa partita Ma ho ucciso Non ci credo Non ci credo No no Refe non ci credo Eh ma infatti stavo a dire Ma questo è un pippone Sei un pippone però Se posso permettermi Eh no ma ti dico Io ho fai dato Io ho fai dato malissimo Perché praticamente Non riuscivo a shieldarmi Ok Ma non ho mai visto una roba del genere Stavo fightando Eri te Refe No infatti stavo a dire Stavo a dire che era un po' un pippone Quello che stavo fightando No Non ci credo Ma così a caso Ma che è possibile Che siamo nella stessa partita Non lo so Però ho detto È un pippone questo qua Infatti eri un po' Cioè un po' Posso dire un po' Deluso Onesto Cioè un brutto fight Ti avevo messo la cupola lì Che ti ha fatto scaventare Ammettilo Posso dire una cosa Qual è il vostro codice partita Il mio è 8-4-D Oh madonna No 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 Ok meno male Adesso vi spiego un attimo La tattica mia Allora Io vorrei Riuscire a fare più che il possibile Poi verso la fine andare a camperarmela Così mi aggiudico gli ultimi punti così Oh 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 Attenzione 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 C'ho qualcuno che mi sta pushando Cosa fa Cosa fa Ok non ci ho capito Non ci ho capito niente Aiuto 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 Non ci sto capendo nulla Ok Rotto No mamma mia ragazzi Mamma mia Questo è uno di quei tra iardini L'abbiamo ucciso col danno da caduta Ma no Ma bro Ma cosa fai Ok però adesso magari scendiamo Se no questo qua mi fa cadere Eccolo Oh mio dio E ci abbiamo due punti in più Sium Let's go ragazzi Così si fa Così si fa Ok regà C'ho un medaglione qui a destra La situazione si fa interessante Conti è morto da refe Roba assurda Quindi refe già sicuramente all'arma mitica Sicuramente avrà anche una kill Quindi regà potrebbe essere Che l'ha fatta magari con l'arma mitica Quindi mi ha raggiunto O potrebbe avermi superato E in questo momento ho veramente paura Ma nonostante io ho paura regà Pusho Non mi interessa nulla Io oggi pusho tutti i nemici Allora ragazzi La nostra prima kill con l'arma mitica L'abbiamo fatta Solo che qui c'è un problema Non ci sono altri nemici nelle vicinanze Quindi sapete cosa vi dico Prendo questa moto E li vado a trovare io Sono un coglione Sto andando dalla parte opposta Spari 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 Ragazzi stanno sparando di qua No adesso ci vado Mi intrometto nel fight E non mi interessa Ma dove cazzo sta questo Porca puttano Niente ragazzi Dai sono morto da sto bimbo Ritardato Sono morto E niente ragazzi Io sono morto Sto aspettando questo Niente ragazzi Secondo me ho fatto schifo Allora Ora che ti ho ucciso Mi dispiace Posso dire che mi dispiace Mi dispiace anche a me Comunque io in realtà Non ho fatto un cazzarola di punti Cioè ho semplicemente preso l'arma Entro i cinque minuti E ho provato a fare una kill Che poi in realtà non l'ho fatta Quindi in realtà ho fatto solo due punti Ho fatto un po' Cagare però Io ho preso l'arma Nel tempo giusto Ok Ho fatto due kill di arma Porco E adesso ho due armi mitiche Adesso io posso fare tutto fra Cioè io mi manca solo un po' Aspetta non ho qua Non ho qua Dai questa è una pippa Questa è una sega Te fai tre kill easy Ma proprio easy proprio Volevi via no? Super easy Allora devo andare a prendere l'altro medaglione Cazzo è il coso Eccolo qua Ora quello che ti consiglio fare È tipo camperate Aspetta a fine partita E vince Ma perché dovrei camperare bro? Posso vincerla questa Ma proprio easy Se ammazzo questo Però hai vinta Se ammazzo questo Però hai vinta Vorrei solo capire Dov'è il nemico Ah è qui sotto di me Forse non mi conviene Nemmeno fightaron Regà non so perché sto qui Però ormai ci siamo Capite? Il nemico è al bunker Regà ve lo dico io dov'è Ve lo dico io dov'è È al bunker Dovrebbe uscire da lì a momenti Oh madonna mia che paura Sapete che forse è meglio Che io me ne vada? Perché dovremmo rischiare? Ok Ok il nemico arriva Ha usato una jumperina regà Si è allontanato Se n'è andato verso la stazione Eccolo qui L'avete visto è entrato lì regà? È Peter Griffin con lo scudo Ma che cazzo? Ma che sto vedendo? E lui tra l'altro ha un'altra Aroma mitica che io volendo Posso prendere Ma che mi frega Sono il creatore del canale Ma posso fare un po' come voglio no? Per me è che dove è andato? Uh eccolo lì giù Aspettiamo che si ferma regà Eh non si fermerà mai Non si fermerà mai Però non lo vedo fortissimo Capite? Cioè potrebbe essere una preda Davvero interessante quel Peter Oh 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 Ragazzi attenzione Ci abbiamo un nemico davanti L'ho provato a shottare Non l'ho preso Mamma mia mamma mia I miei materiali 400 di mattone Basta Dov'è? Non lo sto vedendo Aiuto Tu adesso Te ne scappi Eh no non può essere vero Non può essere vero Non può essere vero Non può essere vero Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio E ce l'abbiamo killato Ce l'abbiamo fatto Sium No Non ci sto credendo Non ci sto credendo Che sono morto da questo L'abbiamo giocato Veramente da dio Abbiamo fatto 5 eliminazioni Di cui Di cui 3 normali Di 3 punti 2 2 punti Con l'arma mitica E abbiamo recuperato l'arma Non mi ricordo E niente Vediamo se qualcuno riesce a vincerla Al posto mio È dietro di me regà Dietro di me Esattamente dietro Cavolo che paura Cavolo che paura Dov'è? Dov'è Peter? Oh mio dio Non capisco dov'è Sta facendo il giro Dobbiamo farlo fuori Per forza è questo regà È fondamentale farlo fuori Ecco lo lì L'avete visto? 110 Buono? Regà 110 È morto praticamente 37 craccato Me ne vado in safe Mi faccio anche un medicozzo Anzi me ne vado prima di qua Regà affidatevi L'ho ucciso L'ho ucciso il bro E si gode regà Seconda kill Con l'arma mitica Forse no Forse no Forse l'ho ucciso con la tempesta Regà cavolo Però sapete che vi dico Va benissimo così Ci andiamo a prendere tutto il suo loot Regà Qualsiasi cosa avesse Boom Prendiamo tutto Risucchiamoci tutto Quanto Fuori dalla safe Mangiatelo bro Mangiatelo Mangiarmelo no eh Però devo capire un attimo Ma vuoi vedere che è la fermo? Però che culo che c'hai Com'è possibile che sono scarsi? Ok no no Questo qui si sono abbastanza Morto da caduta quello Mi sa Fighting incredibile Preve lo puscia Devi citro con l'arma mitica Fai un botto di punti eh Vai 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 Porco Ok Bravo Ok 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 Easy easy Calma calma Due medaglioni Porca Sei kill Regà easy Oh cioè posso dire che è un po' troppo facile? Sei troppo eh sì No sai perché? Perché sei troppo forte Non è che è facile No è facile È facile Onestamente è strafacile Qua non so perché non mi ha messo la scala dentro Ma me l'ha messa dietro Onestamente Ah shieldone Sei kill Facile facile Ah e comunque l'ho fatta con l'arma mitica è questa Guarda in là C'è quello là ecco Quello là lo ammazzo così guarda Ah in volo fai il coso? Facciamo così guarda Così Oh meno spazio Ah simpatici Eccolo Lo boxi lo cappelli Ah ok Non refe con calma Questo è cattivo Easy easy Tanto c'è il medaglione Ah ok Ah lui viene dallo sportello capito Ah ok Dietro Bravissimo Scappa refe Oddio Sono tutti qua Attenzione altro Oh siete rimasti in sete tra l'altro Cioè hai vinto la partita in dodici minuti Qua quasi Attenzione Mamma mia No no refe questo va pushato instant Questo è proprio subito pushato Magari prendilo però Esatto Ma dov'è? È qua Vai 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 Su due Su due Modifica Cappellalo Paragli Pro 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 Porco dure Cosa succede male? Tutti qua Olè tutti qua bro Si era pagato nella scala Non lo vedevo Tutti qua Era la tua partita Era la tua partita Bro tutti qua Cioè capito Faiti uno Ne arrivano sei Capito Ne faiti uno Ne arrivano sei Mamma mia ragazzi Avevo fatto la vita Erano set Erano otto kill Signor Lollo Sono appena morto No mi sembra troppo Signor Ciro Comunque quante kill hai fatto? Ho fatto neanche uno Zero kill? Cioè no in realtà una ne ho fatta Una kill e hai preso l'arma In meno di cinque minuti? Sì sì Infatti Mi sono fermato a 45 secondi Oh cavolo Ok ok Quindi hai preso ben Due punti Se non sbaglio Buono dai Ciro Non male Due punti non so male Nemici regà Nemici 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 O è un botto o è un nemico Oh mio dio Ti prego fai che sia un botto Perché non sono pronto a fai dare in questo momento Sì 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 è un botto regà Oh mio dio che paura questa partita Il fatto che io ho due kill E l'arma mitica Vuol dire che sono già a tre Oh nemico No 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 Perché io ho sparato Vi dicevo siamo in questo momento Esattamente a tre punti Quindi abbiamo già superato Ciro E probabilmente anche Conti Lollo Io ho perso Ok Ok Sono morto Però avevo cinque kill con l'arma Porco due Hai fatto sei punti tipo Sette No dieci Avevo sette kill totali Sette kill totali Più cinque con l'arma Capito E quindi sono rimasti Siamo rimasti io squeezy Oh mio dio Solo noi possiamo battere Squeezy com'è che sta messo Non lo sai Non lo so Non ne ho idea Non ne ho la minima idea Di come sta messo squeezy Io ho due kill di cui Non ne ho fatte nessuna con l'arma mitica Cioè sto veramente in una brutta Infatti per me potresti quittare Ho vinto io onestamente No 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 Io la gioco fino alla fine Perché ti ricordo che ci sono cinque punti Per la vittoria reale Se vinco Sto cinque punti bonus Lollo Io però scusa Ho fatto i due Cioè sei stato bravo Tu zitto Ha fatto meglio Ciro di te Quindi zitto Ho giusto il boss Il boss però scusami E vai In cinque minuti tra l'altro Sei super bravo Mamma mia che bravo Conti Nemico Ucciso Ucciso Con l'arma mitica Davanti a me Ma lo killo ti prego Con l'arma mitica Oddio oddio Calmi 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 Un altro nemico arriva Secondo me adesso muore raga Aspetta Non capisco dov'è Ho il dubbio che adesso morirà Oh mio dio aspetta 56 37 Ti prego muori Ti prego ti prego ti prego Arrivò un altro nemico Lollo non ti vorrei mettere ansia Stai attento però Stai attento dietro davanti e dietro Davanti e dietro Mi pusciano Eh no Adesso Devi fare un muro E apri la finestra Oddio 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 Apri la finestra del muro Conti Ma non c'è nessuna finestra Palla creala Ma sto tenendo un cespuglio Che finestra creo Calmi Eh mi sparano Vado via vado via vado via Ragazzi 3 2 1 È morto No 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 Sono ancora vivo clamorosamente Non so nemmeno io come Eeeh Ricapitolando 2 per 2 4 Quindi ho 4 punti Più 5 6 7 Più la vittoria reale sarebbero 7 8 9 10 Oddio oddio Che cazzo hai presi i primi 5 punti scusami Capito al Conti come si alza i punti per lui Non mi sono alzati i punti Non mi sono alzati i punti Vabbè dai conti figura di sesso muore giusto Ma ti pare Sarebbe davvero da subito Di morire È impossibile che muori Zero possibilità Porca troia Porca troia Questo è cattivissimo L'hai già fatta Ma dai Posso iniziare a contare 5 punti Vai vai conta Conta Adesso basta che Un altro nemico No 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 Regà siamo 3 Siamo 3 Mi bussero Ma si ma che Ma bro Ma che te frega Ma che c'è Ormai hai già vinto Ma perché Ma tu mu lo prendi No 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 Ma vinta vai Hai vinto No 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 Ho vinto Non ho vinto Non ho vinto Bravo 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 Mortacci vostra Regà No hanno fatto casca tutto Hanno fatto casca tutto Ho 2 di vita Ho 2 di vita Ho 2 di vita Non sto capito cazzo No 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 Ha vinto Non la vinci anche con 2 di vita C'è refe No ragazzi un attimo silenzio per favore Veramente Super zitti Siamo rimasti in 3 Calmi Calmi Ti ha scorreggiato No mi cecchino Non lo sicuro Dio Dossiscono Il medaglione arriva di qua Io vado di là 37 37 Sciolto Hai vinto Non ho vinto Ti ripeto Non ho vinto Non ho vinto Vai dai Si no Ua cecchino il bro Non ho mai giocato così Una partita di forte Regà ve lo dico Vinco o no Non mi interessa Non ho mai giocato così bene Ma che volta che sei andato a casa di lollo Ma avevi notato tu l'asciugamanino Si Ce l'avvicino alla frustazione Infatti no perché mi sembra Ho finito mazzo Ho finito mazzo Vaffanculo Ho perso Vaffanculo Che gioco ti inverto Hai vinto Non ho detto che hai vinto No non ho vinto Sono arrivato terzo Guardaci vostro Hai vinto per 3 volte Raga ma c'è Squeezy In tutto gioco però Oddio Oddio Squeezy Potrebbe gracciare il video Per adesso refe primo Io secondo Ciro terzo Conti quarto Vediamo Squeezy In che posizione sta Visi come va Stanno andando Sono morto Sei arrivato a quanto? Ho fatto tipo 5 kill E sono morto Con l'arma mitica? No ho fatto 2 kill Con l'arma mitica E poi sono morto Quindi Oddio aspetta 5 Il loro pollo Hai il mio Pli palla Oh no 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 Ai 100 euro Li dobbiamo dare a refe ragazzi Ci paga Ciro Offre Ciro Un applauso in chat Per Ciro Ciao raga